Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci apre le porte al Consiglio regionale della Toscana. È stata una seduta molto emozionante, per certi versi unica nel suo genere, perché vi raccontiamo quali sono i tre argomenti che trattiamo. In primis c'è stato una rosa bianca, un videomessaggio e un ricordo commosso da parte dell'Aula a Davide Sassoni. E poi sono stati scelti il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta, il portavoce dell'opposizione per andare a Roma per votare il nuovo Presidente della Repubblica. E poi, attenzione, perché Elisa Tozzi lascia la Lega ed entra nel gruppo misto Toscana domani. E quindi partiamo dall'inizio della seduta d'Aula, dai primi momenti. Rivivremo insieme proprio quegli istanti, perché una rosa bianca è stata appoggiata su un tavolo accanto alla bandiera blu stellata dell'Unione Europea nell'Aula riunita in memoria di Davide Sassoni. Poi è stato ascoltato il videomessaggio che il Presidente del Parlamento europeo inviò anzi all'Assemblea Toscana in occasione della seduta solenne della festa dell'Europa lo scorso 10 maggio. Il saluto c'è stato poi da parte dell'Aula al termine del riascolto di questo videomessaggio con un lungo applauso. Il Consiglio regionale della Toscana ricorda così la figura di Davide Sassoli, il giornalista e politico morto. L'11 gennaio scorso, nato a Firenze, Davide Sassoli ha mostrato sempre vicinanza e sostegno alle iniziative della Toscana. Vogliamo anche ricordare, e lo approfondiremo nelle prossime settimane, anche il Media Center, il centro multimediale del Consiglio regionale della Toscana che sta nascendo, porterà il suo nome. Sarà intitolato a Davide Sassoli. Anche noi facciamo un ricordo proprio di Sassoli vedendo quello che è accaduto nell'Aula, ascoltando integralmente il messaggio che aveva inviato Davide Sassoli per la festa della Toscana dello scorso maggio e poi vedremo anche l'applauso e l'emozione dell'Aula. Grazie a tutti. Gentile Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, caro Presidente Eugenio Gianni, caro Presidente Francesco Gazzetti, amiche, consiglieri, vi ringrazio per il vostro invito. Purtroppo in questo momento non è possibile incontrarci, ma desidero rivolgere un caloroso saluto a tutti, congratularmi con la Commissione Europa del Consiglio regionale per aver promosso e organizzato questa seduta solenne. Il 9 maggio rappresenta per ciascuno di noi, cittadini d'Europa, la celebrazione di un percorso di integrazione, di prosperità, di pace che ci ha accompagnato per oltre 70 anni. Mai come in questo momento risuonano attuali le parole in particolare di Robert Schumann, quando nel 1950 apri la sua celebre dichiarazione gli scrisse «l'Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme, ma si farà attraverso realizzazioni concrete, creando prima di tutto una solidarietà di fatto». La forza di quelle parole, attraversa la nostra storia comune, ci indica la strada che dobbiamo percorrere. Anche quest'anno la ricorrenza della Festa dell'Europa coincide con un momento davvero complesso per le nostre comunità. Per l'Unione Europea e per il mondo la drammatica crisi del Covid è stata un vero e proprio spartiacque, e lo sarà anche in futuro, perché è un evento devastante, inatteso. Il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole, che specialmente negli ultimi 20 anni non ha fatto altro che produrre fratture, disuguaglianze nel nostro corpo sociale. Tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi, come cittadini, come decisori politici. La risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima. Mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto. La pandemia non può essere una parentesi, ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto, con meno disuguaglianze. Non si tratta di recuperare le ricette del passato, ma di leggere con lenti diverse le sfide della contemporaneità. Non dobbiamo avere paura della complessità. E non è più accettabile un'economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future. In questo senso il Recovery Fund e il Next Generation EU rappresentano non solo la risposta europea alla pandemia e agli effetti che ha prodotto, ma anche una grande opportunità per realizzare nuovi modelli capaci di conciliare crescita e sostenibilità. In questo momento storico è fondamentale agire insieme, proteggere la nostra coesione sociale, incoraggiare un'Europa a discutere, a fare politica, a cercare convergenze. Vuol dire rafforzare la nostra democrazia e rendere i cittadini protagonisti di questa grande e straordinaria comunità. La politica non può essere per pochi. E in questo senso credo che la conferenza sul futuro dell'Europa rappresenti davvero una valida occasione per stimolare e coinvolgere le nostre opinioni pubbliche. La democrazia si basa sulla partecipazione e noi dobbiamo recuperarla a tutti i livelli. Questa iniziativa si sostanzia attraverso la partecipazione diretta delle istituzioni nazionali e locali, della società civile, dei giovani, delle università, delle imprese, del mondo del lavoro. E vuole essere un momento di ascolto, ma anche di elaborazione di idee. Il destino dell'Europa è nelle nostre mani, oggi più che mai, perché dobbiamo affrontare tante sfide che la contemporaneità ci mette davanti. E per affrontarle c'è bisogno del contributo di tutti e credo che la Toscana non solo farà la sua parte, ma saprà offrire a tutti un esempio di come vivere, di come interpretare le sfide di questo tempo. Con questo augurio vi saluto, vi auguro buon lavoro, naturalmente spero, passata la pandemia, di potervi incontrare di persona. Buona festa dell'Europa! Applausi! 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 Io oggi ho voluto ricordare in aula la figura di David Sassoli. David Sassoli amava la Toscana, David Sassoli ci ha sempre mandato dei messaggi importanti, dei messaggi forti su quella che deve essere l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa in cui si riduca le ingiustizie, un'Europa attenta agli ultimi. Ecco, ad un grande uomo, ad un grande giornalista, ad un grande politico, ad un grande uomo delle istituzioni, noi abbiamo deciso tutti insieme, senza distinzione di colore politico, di dedicare il nostro nuovo media center e oggi in aula, sulla bandiera dell'Europa, posta al centro della nostra aula, assemblea legislativa, abbiamo deciso di mettere una rosa bianca che era il segno di quando Sassoli, da ragazzo, combatteva contro ogni forma di discriminazione ed era il modo per ricordare quei gruppi di ragazzi che combattevano i nazisti. Un segnale forte e chiaro qual è la parte giusta della storia da acquistare. Quindi un bel momento, un ricordo toccante davvero per David Sassoli. Poi successivamente, sempre nella seduta, si è scelto coloro che andranno, diciamo così, a partecipare alle elezioni del Presidente della Repubblica. I grandi elettori toscani sono in rappresentanza sia dei gruppi di maggioranza che delle opposizioni. E quindi il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il Presidente della Giunta, e Eugenio Gianni, il portavoce delle opposizioni Marco Landi, sono i grandi elettori della Toscana. Mazzeo è stato nominato con 27 voti di preferenza, Gianni con 25, Landi con 13. Ha ricevuto due voti anche Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle. È stata registrata anche una scheda bianca. Prima delle operazioni di voto, il Presidente del Consiglio, Mazzeo, ha spiegato nel dettaglio delle modalità di voto, visto che per la prima volta, come una delle prime esperienze italiane, l'Assemblea Legislativa ha espresso il voto in modalità elettronica. Ma io sono davvero contento, per me è una grande soddisfazione. Sarà la prima volta di un'esperienza del genere, appunto insieme a tutti i colleghi del Parlamento per le elezioni del Presidente della Repubblica. È stato un voto che ha consolidato il sostegno e la simpatia che si è espressa da un punto di vista politico con il voto unanime dei 25, componenti la maggioranza, i 23 del PD e i 2 d'Italia Viva. Quindi per me è davvero una grande e bella soddisfazione. Sento la responsabilità, perché lunedì 24 di gennaio noi avremo per la prima volta, la sera alle 19, è già calcolato il momento in cui i tre grandi elettori della Toscana sono chiamati al voto, la possibilità di esprimerci. Io spero che in Parlamento si determini non la conta di una maggioranza e di una minoranza per il Presidente della Repubblica, ma si riesca a trovare la convergenza su un nome che vada in senso istituzionale a rappresentare, come dice la Costituzione, l'unità del Paese e conseguentemente possa raccogliere un consenso così ampio da vedere intorno a questa figura il senso di riconoscimento di tutte le nostre istituzioni e dei rappresentanti che sono chiamati al voto nel ruolo e di parlamentare o di grande elettore. La cosa più importante è che la maggioranza sia stata unita, i 25 voti della maggioranza sono andati sia a me che al Presidente Gianni, poi in aula ho scoperto, ascoltando le parole delle colleghe del Movimento 5 Stelle che avrebbero dato un voto di preferenza al Presidente del Consiglio regionale come rappresentante di tutta l'Assemblea legislativa. Le ringrazio, come ringrazio tutti i colleghi consiglieri, sia quelli che mi hanno votato di maggioranza e quelli di opposizione che hanno votato per il portavoce Marco Landi e come dire, loro un anno e due mesi fa non mi avevano votato come Presidente del Consiglio regionale e credo che sia il segno di un'attenzione, di un rispetto istituzionale importante e anche dell'attenzione che io ho provato a avere sempre verso tutti, sia chi mi aveva votato sia chi non mi aveva votato e quindi a loro un grazie doppio e per me inaspettato perché l'ho scoperto soltanto all'ingresso in aula. Prima di tutto il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia il centro-destra in questa occasione ha dimostrato compattezza indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione questo è un onore per me rappresentare la Toscana ma anche venendo dall'isola d'Elba tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia sicuramente è un impegno che si prende con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere e quindi cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera migliore e più alta possibile. La consigliera regionale Elisa Tozzi, uscita dal gruppo della Lega entra a far parte del gruppo misto a partire dal primo febbraio è stato ufficializzato proprio durante l'ultima seduta del Consiglio regionale Tozzi ha già depositato richiesta di costituzione del gruppo misto attualmente non presente nell'Assemblea Toscana sarà istituito con il nome di Toscana Domani la consigliera regionale Tozzi, ricordiamo, fu eletta grazie ai voti di La Lega nel Consiglio di Firenze 2 Certamente è stata una scelta non facile dopo aver condiviso un anno di un percorso consigliare che sotto il profilo umano è stato anche intenso certamente però come in ogni situazione che si può verificare diciamo nella vita quotidiana a un certo punto ci si accorge che questo percorso politico non è più condivisibile non lo è perché in questo anno ci si poteva aspettare di più sotto il profilo anche dell'evoluzione e della maturazione di un partito che ancora oggi tende ad essere estremamente esettario un partito che ancora oggi guarda con diffidenza al ruolo centrale della provincia di Firenze un partito che forse ancora non sa cogliere la sfida di una maturazione, di un'evoluzione che invece credo oggi debba un po' interessare tutti quanti noi soprattutto come consigliari regionali come coloro che si pongono come classe dirigente non è possibile rimanere all'interno di una costruzione che forse oggi dovrebbe maturare e porsi più al passo coi tempi rispetto invece a una situazione che ho trovato non ricettiva su alcuni passaggi questo è quanto anche a livello di linea nazionale è rimasta sempre una linea molto ambigua una linea che non ha voluto mai dare chiarezza ed evolversi in una direzione che forse anche dentro questa consigliatura questo consiglio regionale rischia di relegare la Lega più ad un ruolo di marginalità rispetto alla centralità che invece aveva all'inizio come forza allenante del centro-destra ci sono questioni che purtroppo riguardano la maturazione del partito e questa maturazione in termini di contenuti magari meno like meno personalismi ma forse anche più come dire guardare anche alla qualità al merito, alla prospettiva ecco su questo poi dopo alcuni equilibri si rompono perché poi le visioni cominciano ad essere diverse io credo invece che oggi la politica debba andare nella direzione di recuperare credibilità soprattutto in un momento difficile come questo quindi la sfida grande è quella soprattutto di riuscire a ridare una speranza alle persone in una fase diciamo difficile come quella che stiamo vivendo questa è la grande sfida se non la si coglie ma si preferisce rimanere all'interno di un orticello sicuro ecco allora è lì che comincia diciamo ad inclinarsi un equilibrio e per questo appuntamento è tutto vi ricordo per gli approfondimenti e tutti gli aggiornamenti c'è il sito internet www.inconsiglio.it io vi ringrazio per essere stati con noi e vi aspetto come sempre qua tra sette giorni dentro il consiglio e vi ringrazio per essere stati con noi